La settimana che proietta verso il futuro è già iniziata, il Teramo a sette giorni di tempo, per quantomeno provare a definire il perimetro dei propri orizzonti. Cosa impossibile se prima non c'è una definizione del quadro societario che verrà o che rimarrà tale. Perché seppur sotto traccia i contatti tra Iachini e la Cordata Romana, intenzionata a subentrare in tutto in parte all'attuale establishment, continuano al netto delle smentite bianco-rosse. Anzi, si registrano passi avanti non decisivi ma sostanziali. Le diplomazie sono al lavoro costante, anche se non è ancora chiaro quanto Iachini, in caso di via libera, sia disposto a lasciare sul piatto. Se passare definitivamente la mano o farlo solo in parte. Per il momento, dopo la suggestione orientale, è questa la vera pista che potrebbe dare risposte più chiare nella settimana che parte oggi. Andare oltre, infatti, sarebbe un problema per le tempistiche di costruzione dell'architrave del Diavolo 2021-2022. In realtà Iachini non ha ancora scelto se cedere la maggioranza o no della società. La questione, infatti, pare sia sulla valutazione complessiva del Teramo, con lo stadio che invece rimarrebbe fuori da questi discorsi perché in gestione ad altra società, facente capo allo stesso Iachini. Si ragiona dunque solo su quanto, allo stato attuale, valga il sodalizio calcistico e su quanto eventuali cessioni estive potrebbero potenzialmente portare nelle casse biancorosse. Ma è altrettanto evidente che senza allenatore e con un direttore sportivo in scadenza tra 23 giorni pianificare trattative di mercato per elementi dell'organico appare quantomeno complicato. Ecco il nodo gordiano della vicenda. Incastrare due discorsi che sono inevitabilmente intrecciati l'uno all'altro. A meno che, ed è un'ipotesi, ma certamente non quella che l'attuale presidente auspica, non rimanga tutto invariato e Iachini sia costretto a continuare con le proprie forze. Decisione questa che si baserà su quanto c'è sul piatto, sulla volontà o meno da parte del presidente biancorosso di lasciare e da quanto, dall'altra parte, sarà offerto per una percentuale variabile di quote societarie. Il resto, quello che verrà, sarà solo l'inevitabile conseguenza di questi discorsi avviati per non dire avviatissimi, ma che, non per questo, vedranno per forza di cose la fumata bianca. Una volta consolidate e certe le linee programmatiche, ci sarà la conferma del direttore sportivo o, in caso di mancato rinnovo, la scelta del successore di Sandro Federico. Poi la ricerca del sostituto di Massimo Paci e la valutazione della Rosa che possa competere per il prossimo campionato. Decisioni, quelle di tipo tecnico, che spetteranno a chi sarà investito di questo ruolo. Per i presupposti, tuttavia, c'è ancora da attendere, almeno questa settimana, in un senso o in un altro.